Bentornati ragazzi, oggi iniziamo una nuova avventura su Imperium, avventura tra le montagne di Ricky 1996. Lo ringrazio molto per avermi dato il permesso di poterla registrare. Allora, diamo un attimo un'occhiata alla descrizione, avventura tra le montagne. Il giovane comandante romano, Riccardo, è stato spedito alla ricerca dei suoi uomini accampati in Gallia, vicino ai Pirenei. Ma uno sbaglio nelle scegliere la strada l'ha condotto in un'immaginabile avventura. Bene, io direi di iniziarla e vediamo un po'. Ok, Riccardo, per gli dèi, mi sono perso, non avrei dovuto scegliere un'altra strada per raggiungere l'accampamento dei miei uomini, chissà dove mi trovo. Allora, un princep che si chiama Riccardo, sei proprio bellissimo, uno sguardo un po' incazzato, però va bene. Boh, andiamo avanti. Io direi di accelerare almeno un po' la velocità perché se no così andiamo in pensione. Allora, dai su, andiamo, andiamo, andiamo tra le montagne. Andiamo a trovare il nonno di Heidi che sicuramente vivrà da queste parti. Oh, oh, guerriero, un intruso addos... Oh, cos'è, scusa, eh? Allora, zio, senti, eh. Io sono venuto in pace, quindi posso passare. Ma che... Puntini, puntini. Non hai scampo, arrenditi, sei preso. Ubbidisco. In questo momento le mie circostanze mi sono favorevoi. Speriamo non ci facciano niente. Prendetegli le armi. Tu, portalo da Kestner affinché possa deciderne cosa farne. Agli ordini. Kestner, mio signore, abbiamo fermato quest'uomo nei pressi del nostro accampamento. Bene, bene. Cioè, male, male. Tu, uomo, chi sei? Una spia? Sono un romano. Sono finito da queste parti per caso. Dovevo raggiungere dei miei uomini situati in un'altra zona, ma ho sbagliato strada. Ah, ah, potevi inventare una scuola più convincente. Ho sentito parlare molto del coraggio romano, ma a quanto pare tu sei un codardo. Eh, te lo giuro, questa maga l'ammazzo. Shaila, t'ammazzo. Ecco, nessuno può chiamarmi codardo. Nessuno può chiamarmi codardo. Se tu fossi una donna ti farei pentire di ciò. Eh, eh. Uh, che caratterino. Però mi piace. Uh, questa si sta innamorando di me. Romano, perché non lo dimostri? Cosa? In che modo? Combatti a duello contro alcuni dei miei uomini. E mostraci coraggio e il valore romano. Va bene, sono pronto. Ridategli le armi. Ah, cioè, adesso facciamo... Mi mettete contro i vostri uomini. Va bene, li distruggerò tutti. Cos'è tutta sta roba? Ah no, aspetta, contro i miliziani, spero. Ci siamo. Ora tu puoi salvarti. Guerrieri attaccate. Allora, eh. Ma non è che muo... Sono contro i tre mil... Ah, vabbè. Allora, vediamo un po' i miliziani. Però, eh... Forse vinco, forse vinco. Ah, sì, sì, dai. Ho ammazzato due miliziani, riuscirò a ammazzare pure il terzo. Dai, dai. Fatevi vedere la potenza del Princep Riccardo. Eh, la prova non è finita. Preparati a affrontare altri guerrieri. Ma non temere, prima ti curerò. Eh, beh, almeno quello, scusa. Non ho capito. Vai, vai. Uccidili. Uccidi tutti questi arcieri. No, ma... Io sto morendo, però, eh. Io sto morendo. Ho meno di metà vita. Cioè, tra un po' ho meno di 100 HP. Ho 90 HP. Ah, vabbè. Però ho qualcosa di cui, però. No, vi prego, vi prego. Cioè... Dai, 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 dai. Sono... Momento suspense. Dai che ammazzo l'ultimo arciere. Dai. Sì, sì, sì. Come? La prova non è finita. Preparati a affrontare altri guerrieri. Ma non temere. Prima ti cura. E prendi anche quest'acqua. E da adesso in poi ti servirà. Cioè, ma dai, ma quante prove sono? Scusa. Adesso c'ho... Diecimila di acqua. Eh sì, ottomila di acqua. No, vabbè. Io bo... Cioè, qua mi hanno messo proprio la prova. Mi stanno... Porco due. Non so più cosa dire. Allora, dai. Su. Allora. Oh, oh, oh. No, ho sbagliato. Ho sbagliato, dai. Ho sbagliato. Non è possibile. Che figura di merda. Va bene. Dai, su. Riproviamo. Cura, cura. Ma quanto tolgono ste guardie d'elite? Sembrate hacker. Dai, non potete togliere così tanto. Dai, non è possibile che tolgano così tanto. Allora, guardie d'elite. Dai, dai. Me lo sento che vi distruggerò. Sembro quasi hacker ad usare... A pozzarmi così. Dai. Ma io mi curo. Non potete uccidermi. Non potete uccidermi. Allora, vediamo prince... Io non vedo neanche lo sconto perché sono dietro in un albero, purtroppo. Non so se usare la pozione. Sì, usiamola, va. Uccidi sta guardia d'elite. 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 La prova non è finita. Preparati ad affrontare altri due... Ma non temere. Prima di tipo... Basta, non ce la faccio più. Cosa mi dovete far affrontare? Ogni singolo guerriero della vostra legione. Non è possibile, eh. Adesso contro i cavalieri pure Ci mancava solo questi Dai Riccardo Io credo in Riccardo Io credo in Riccardo Ammazza tutti sti cavalieri Che sono delle pippe Noi siamo ultra overpower Con sta 6.000 di acqua Ancora 5.000 e 2 vabbè Ho approssimato Dai Riccardo distruggili Bene La prova non è finita Ma basta Non ne posso più Uccidi tutti sti frombolieri Uccidi 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 sti frombolieri Vabbè l'ho detto 30.000 volte ma devi uccidere Dai Sti frombolieri Hanno 40 d'attacco Vabbè ma io sono più forte Perché io c'ho l'acqua E posso bere quanto voglio Posso curarmi quanto voglio Perché io sono overpower No perché l'ho usata Tanto adesso Ecco ti pareva La prova non è finita Proverai a affrontare Ma non temere Prima ti curerò L'hai detto 30.000 volte Shyla Ah contro i guerrieri Adesso No basta ragazzi Non ne posso più Questi però sono forti I guerrieri Prima che muoiano questi Dai Ammazzali Riccardo Io credo in te Riccardo Io Noi crediamo in Riccardo Allora Noi lo curiamo Ovviamente Perché non può morire Riccardo Perché deve ammazzarli tutti Cioè Io spero che questa sia L'ultima prova Allora Riccardo Ammazza Ammazza Prima quello di sinistra Me lo sento Che è il più debole Poi non lo so Ok Uno è morto Possiamo farcela Possiamo farcela Possiamo farcela Andiamo Ma quanta vita hanno Sti guerrieri Mamma mia Aspetta Sono curioso Quanta vita hanno Ah 400 HP Ci hanno Questi guerrieri Mamma mia Hanno pure qualche abilità Tipo stronza Mi pare Adesso voglio andarla a vedere Ah Attacco esperto Ah no Vabbè Libertà non la conto Dai Allora Vediamo Allora C'ha Però toglie Comunque Allora Io l'ho curato Quindi Penso che Ho vinto Penso che Non ci saranno Altri guerrieri Cioè Almeno spero Uh Uh Ma sei Uh Sei in gamba Mi devo ricredere Mi piace Adesso non ti innamorare di me Solo perché ho sconfitto Tutta la tua legione Shaila Non è possibile Io ti frenzono Grazie Ti batti bene Romano Qual è il tuo nome Mi chiamo Riccardo Uh mi piace anche il nome Bene Riccardo Io sono Kester Lei è Shaila Dove mi trovo Sei in Iberia Ber Romano Su Ber Romano Sui Pirinei Per l'esattezza Ascolta Riccardo Vorresti aiutarci Contro Dei nostri nemici Allora Vediamo Un po' Io combatt No io direi di scegliere questa Perché è proprio Da Romano Io combatto solo con i miei Mi dispiace Io non affronto uomini senza motivo E non cambierò parere adesso Sei un uomo saggio Peccato Anche perché mi piaci Sempre di più Hai finito Dai Basta Questa qua si è innamorata di me Dai Non è possibile Sia come vuoi Romano Mi avrebbe fatto piacere Averti come lato Ti batti bene Vattene dunque Non hai Più alcun motivo Di rimanere qui Addio Oh perfetto Boh Io direi di terminare qua La prima parte Spero che Vi sia piaciuta Come la scorsa avventura E ci vediamo Alla Alla Prossima parte Grazie a tutti